Si è chiuso l'incidente probatorio nell'ambito dell'operazione social dumping della procura distrettuale antimafia del Tribunale dell'Aquila. L'indagine transnazionale che ha scoperto un'organizzazione che reclutava e sfruttava operai provenienti dall'est Europa e impegnati nei cantiari della ricostruzione del posto terremoto. Per la prima volta l'Aquila è stato contestato agli arrestati anche il reato di autoriciclaggio. Per questo motivo uomini residenti in Abruzzo e in Romania, operanti nel settore della ricostruzione post-sisma, erano stati arrestati dai carabinieri del comando provinciale dell'Aquila con le accuse a vario titolo di autoriciclaggio, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Nessuno degli operai citati si è presentato all'incidente probatorio. Dopo i primi tre ascoltati lo scorso 30 settembre e chiamati a ripetere davanti al giudice Guendalina Buccella e al pubblico ministero Simonetta Ciccarelli quello che avevano affermato con un interprete alla polizia giudiziaria durante il loro ascolto a sommare informazioni nella fase di indagini preliminari. A questo punto si attende la probabile richiesta di rinvio a giudizio per i sei indagati da parte del PM. Secondo le accuse, i lavoratori venivano pagati la metà, senza garanzie, senza malattia, senza ferie, costretti a subire in silenzio un compenso netto dimezzato a 50 euro al giorno e l'orario alzato da 8 a 10 ore, pena la minaccia di essere sostituiti. Le persone raggiunte dall'ordinanza di custodia cotelare in carcere sono Antonio Del Rico, Francesco Salvatore, Panfilo Di Meo, Giancarlo Di Bartolomeo, Massimo Di Donato e Nicola Otescu.